Salve a tutti, in questo video tutorial andremo a vedere come colorare e ottimizzare i nostri viewing settings per ottenere qualcosa di questo tipo. Un modello 3D di un trofeo che ha colori e proprietà dei materiali realistici. Come potete vedere il modello che andremo a modificare è lo stesso dell'ultimo video. Pertanto partendo da questo andiamo a vedere quali sono le cose che dobbiamo modificare e come fare per rendere il nostro oggetto il più realistico possibile. Innanzitutto quindi andiamolo basicamente a colorare e a dargli un materiale, quindi andiamo sul paint tab e dopo clicchiamo material. Qui andiamo subito a selezionare l'opzione realistic da applicare al nostro oggetto tramite il type tab in alto a sinistra che una volta cliccato ci aprirà questa tendina, da qui possiamo cliccare realistic. Dopodiché andiamo a ignorare il colore perché tanto andremo ad applicare al nostro oggetto i materiali. Dopodiché andiamo a dare una finitura un po' più lucida al nostro oggetto e spuntiamo il box is metallic. Questo ci permetterà di trasformare il nostro oggetto in un oggetto metallico. Quindi andiamo a decidere che tipo di finitura metallica vogliamo. In questo caso andiamo con questo oro bronzato e clicchiamo apply. Come potete vedere adesso il nostro oggetto è metallico, tuttavia non è finita. Infatti per personalizzarlo ulteriormente andremo a modificare anche l'aspetto della base e del piccolo piedistallo inciso. Quindi per farlo andiamo nella texture tab e una volta selezionato in alto a sinistra il menu che ci permette di selezionare il tipo di texture che vogliamo dare ad un oggetto in questo modo possiamo andare a scegliere che tipo di materiale utilizzare. In questo caso per il contrasto userò il walnut. Quindi una volta selezionato e selezionato anche l'opzione brush che ci permette di andare a colorare una sola volta una faccia dell'oggetto andiamo a colorarlo. Quindi cliccando piano piano su tutte le facce vediamo che cambiamo la base da metallica a questo effetto legno. Una volta completata abbiamo terminato. Quindi proseguiamo con il nostro piccolo piedistallo. Selezioniamo un altro materiale in questo caso perché non un granito. e come abbiamo fatto in precedenza andiamo a selezionare tutte le facce che vogliamo colorare in questo modo. Una volta fatto anche questo abbiamo completato la texturizzazione e il colore del nostro oggetto. Quindi andiamo a vedere come possiamo aggiustare i settings legati alla visualizzazione del nostro oggetto per avere una visione più o meno realistica. Quindi clicchiamo sul view tab e clicchiamo sul center view per centrare l'oggetto. Il programma ci lascia già delle caselle preselezionate ma noi deselezioniamole tutte. Quindi come possiamo vedere cliccando sul pulsante color andiamo a togliere o mettere totalmente il colore del nostro oggetto come in questo caso. Tuttavia non è abbastanza. Infatti andando a cliccare sul pulsante shading vediamo che iniziamo a mettere le prime ombre. Qua il programma ci mette direttamente l'opzione shadows accesa ma possiamo benissimo spegnerla per ottenere un effetto meno dettagliato. Come potete vedere cliccando il pulsante togliamo le ombre. In questo caso però rimaniamo con shadows selezionato. Andando avanti troviamo il pulsante reflections che ci permette di dare una nota ancora più realistica al nostro oggetto e per finire il pulsante smoothing che ci consente di unire tutte le facce del nostro oggetto in maniera molto più coesa come potete vedere. Infine possiamo andare a togliere la grid che è sullo sfondo per ottenere una visione del nostro oggetto in questo spazio vuoto. Quindi una volta fatto questo e andando a salvare il nostro file come stl abbiamo terminato. Per questo semplice video tutorial è tutto. Per altri video come questo seguite il canale JBDTube. Grazie a tutti.